Il Comune di Agrigento, il bilancio di previsione 2016 e l'ipotesi pre-dissesto e riequilibrio finanziario. L'intervista alla Vice Sindaco Elisa Virone. Gloria Scafè. Il Comune di Agrigento è prossimo al bilancio di previsione 2016 che a breve verrà portato in consiglio e in tempi di bilancio la paura che serpeggia fra i cittadini è quella del volgarmente detto pre-dissesto finanziario, ossia piano di riequilibrio. Al momento non si sono rilevati elementi tali che inducano a parlare della patologia più grave dell'ente locale. Il dissesto, dichiara Elisa Virone, Vice Sindaco di Agrigento, ma è emerso un dato per cui si potrebbe ipotizzare un piano di riequilibrio che naturalmente deve essere oggetto di studi e di approfondimenti. A detta della stessa Virone, ciò che si sta portando avanti è una operazione verità. Nelle scorse giornate è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2015 e sono emerse delle criticità. Si parla di un extra deficit, cioè un debito ulteriore che non figurava sui documenti di 34 milioni di euro. Abbiamo un dato normativo nuovo che è un dato che crea veramente un sistema di sopravvivenza non soltanto per l'ente locale aggrigento, per il Comune di Agrigento, ma diffusamente per tutti gli enti locali che si trovano oggi a dovere coordinarsi con una normativa più rigorosa in materia di redazione dei documenti contabili e con delle casse che sono già fortemente provate. Abbiamo un fondo crediti di dubbi e esigibilità in cui abbiamo necessità di accantonare delle entrate che prevediamo di accertare nell'esercizio, ma che non possiamo utilizzare perché sono di dubbi e di difficile esazione. Cosa vuol dire per noi questo? Significa trovarci di fronte ad un documento contabile che evidenzia dei numeri, dei dati economico-finanziari frutto di passate e strapassate gestioni amministrative rispetto alle quali noi non intendiamo in questo momento né polemizzare né affrontare dei temi che non sarebbero proficui per la città, ma quello è certamente. E quindi abbiamo la necessità di far emergere questi dati. Di fronte a questi dati le valutazioni quali sono? Ipotesi di strumenti straordinari su situazioni concrete straordinarie, critiche, quali il piano di riequilibrio. Ed è in questi termini che si è pensata ad un'ipotesi di riequilibrio pluriennale del bilancio, cioè nei termini di superamento di quelli che sono dei dati economici che sono chiaramente emersi a rendiconto. Fra i cittadini poi c'è appunto la paura per le proprie tasche, le tasche delle imprese. Questo dato di preoccupazione che lei evidenzia è bene che vada accompagnato con una conoscenza reale di ciò che comunque c'era, esisteva nell'ambito di quelle che sono le pieghe dei documenti contabili e che oggi emerge in maniera più evidente, più chiara, ma non c'è nulla di nuovo. Oggi i cittadini non hanno nulla di diverso rispetto a cui preoccuparsi, di cui preoccuparsi rispetto a ciò che c'era uno, due, tre, quattro, cinque anni fa.